Zagabria, il Poglavnik si reca a porre la prima pietra al villaggio delle nuove case operaie che recherà il nome del grande statista croato Ante Starcevic. Acclamato dalle squadre operaie, il Poglavnik mura una pergamena a ricordo dell'avvenimento. Il plastico del nuovo villaggio, l'area dove sorgerà, il Poglavnik in mezzo agli operai che iniziano subito il lavoro, le maestranze acclamano entusiasticamente a Dante Pavelic. Grazie.